... Gianni Colacione, oggi è 8 giugno 2013, siamo a Roma in Piazza Santi Apostoli. E siamo qui presenti ad un sit-in, c'è un gazebo qui, dove possiamo leggere questo striscione che dice testimone di Geoa, basta ostracismo verso gli ex. Allora, per dare al pubblico di LibriTV un po' un'idea di cosa sta avvenendo, di cosa vogliono queste persone che protestano e per che cosa, siamo qui in compagnia di Enrico che ci dirà proprio di che si tratta parlandoci della sua vicenda personale. Allora, per quanto mi riguarda, io mi sono battezzato nei testimoni di Geova all'età di 12 anni. Sicuramente uno può decidere di battezzarsi quando vuole, nel senso che quando ha la piena facoltà delle sue idee, capisce quello che vuole della sua vita e si crea un'ideologia personale, può prendere quella strada come un'altra. Il problema è che siccome già da piccolo, quando uno nasce nei testimoni di Geova, subisce molte pressioni per fare questo tipo di passo e lo fai a questa teneretà, non hai più la facoltà di tornare indietro. Quindi tu a 12 anni ti ritrovi ad avere una responsabilità che deve per forza durare tutta la vita. E se a un certo punto decidi di allontanarti da quel tipo di ideologia, ti ritrovi a essere completamente ostracizzato. Quindi niente più saluto dai genitori, dagli amici che hai avuto dall'infanzia. Ed è una cosa obiettivamente non facile da affrontare. Cioè praticamente quindi anche visto che questo credo religioso, adesso non so tecnicamente come si può chiamare, questo è il testimoni di Geova, comunque sia, ha una caratteristica anche familiare, cioè le famiglie intere sono coinvolte, nel momento in cui qualcuno voglia recedere, per lì vengono isolati, c'è ostracismo, vengono ignorati. Quindi anche i rapporti, diciamo, padre-figlio, madre-figlia, quindi vari rapporti affettivi che ci sono, ne subiscono delle conseguenze. Assolutamente sì, ed è questa la cosa che fa più rabbia. Perché un genitore in teoria credo che debba lasciare comunque la libertà al figlio di decidere che idea vuole seguire e in questo caso invece non è, non è così. Perché dicono che nel momento in cui hai preso una strada, sei battezzato, quindi hai consacrato, tra virgolette, la vita a Dio, se vogliamo chiamarlo così, devi per forza farlo per sempre. E non tengono conto che una persona a 12 anni non può avere la facoltà di decidere cosa fare nella vita. Sappiamo che per votare uno deve avere 18 anni, per la patente uno deve avere almeno 18 anni. E sono cose molto di minore importanza rispetto a quella che richiedono i testimoni di Geova. Senti, ma questo tuo avvicinamento tramite questo battesimo così precoce è una regola all'interno dei testimoni di Geova o è stata, diciamo, un'esagerazione, un'eccezione nell'ambito della tua famiglia? Allora, definire la regola non è del tutto corretto, perché loro dicono che ognuno deve scegliere cosa vuole fare. Di fatto però, essendo cresciuti in un ambito, io come tanti altri giovani della mia età, in cui sei stato indottrinato fin da quando sei nato, arrivi a anche 8 anni, 9-10 anni, che hai solo quello in mente. Quindi, sentendoti i genitori, gli amici, i parenti, dai battezzati, dai battezzati, non hai altra scelta, obiettivamente. Quindi lo fai convinto di fare la cosa giusta, senza però sapere che crescendo le cose possono cambiare. Grazie Enrico. Tutta la mia vicenda parte tutta dall'ostracismo. Cioè, come genitori non vogliamo un insegnante ex testimone di Geova, perché i genitori erano il testimone di Geova. Cioè, come genitori non vogliamo un'ubile, significa che non vogliamo un'ubile, ma vogliamo un'ubile. Grazie. Grazie a tutti. Allora qui abbiamo la possibilità di riportarvi un'altra testimonianza diretta di Daniele, peraltro Daniele è anche attivo sulla rete per questa battaglia e poi ci dirà come. Daniele cosa è successo a te? Allora salve a tutti, io mi chiamo Daniele Fontana, ho creato su Facebook un gruppo che parla di questa problematica di cui qui potete vedere i cartelli. L'ostracismo geovista cosa significa? Quando si diventa dei simoni di Geova e per qualsiasi motivo si decide di uscirne, per qualsiasi motivo, anche semplicemente per cambiare religione, si subisce questo ostracismo, questa emarginazione da parte di tutti gli adepti, i propri fratelli, i propri amici, anche famiglia, anche familiare. Questo è accaduto a te? Anche nel mio caso, purtroppo sto subendo questo ostracismo da parte della mia famiglia stretta, quindi parlo di genitori, fratelli. Tanto per capire, in che forma accade? Non si interrompono comunicazioni, ti trattano male? Vorrei che il più possibile riuscissimo a concretizzare il tipo di trattamento e di comportamento. Sì, proprio nella realtà avviene questo ostracismo, questa emarginazione. La propria famiglia si divide, si separa, non si ha più quella frequentazione come prima, non si mangia più insieme, non si può uscire insieme tranquillamente a fare una festa o una passeggiata o mangiare insieme ad altri della propria famiglia, magari insieme ad altri dissimo di Geova, perché si è l'intrusi, cioè si rappresenta la persona pericolosa per il loro credo, quindi ti allontanano, ti emarginano, ti mettono a un angolo per farti sentire solo affinché uno si sente così solo che non vede l'ora di ritornare all'interno per ritrovare tutto lo spazio precedente. È una tecnica, diciamo. Anche i ricattatori, in qualche modo? Sì, è un grave ricatto morale, che crea delle violenze psicologiche assurde. Io nel mio caso, immaginate che nei vari matrimoni della mia famiglia, per fare un esempio, io non sono stato invitato. Quindi immaginate voi una festa, una festa in cui ci sono estranei, ci sono persone che festeggiano, in questo caso un mio fratello che si è sposato, e all'appello chi manca solo io, perché è uscito dai testimoni di Geova. Parliamo di questa tua scelta, come mai sei uscito da questa regione? Io all'età di 20 anni ho deciso autonomamente di uscire, per motivi personali, perché non condividevo più le loro ideologie, perché ho voluto fare un altro tipo di vita. Adesso, per esempio, sono diventato cattolico, tutti gli effetti, quindi ho fatto la mia vita personale. Questo non deve prescindere dal rapporto con la mia famiglia, infatti nel mio caso non ho mai messo in campo le due cose, cioè la mia vita personale con la mia famiglia. La mia famiglia è una cosa, la mia vita personale è un'altra, mentre loro non fanno questa separazione, fanno un tutt'uno. O sei uno di loro e frequenti la loro organizzazione, oppure vieni allontanato. E questa è una cosa sbagliatissima anche sotto il punto di vista dei diritti fondamentali dell'uomo, la libertà religiosa, la libertà di scegliere quello che si vuole fare nella propria vita. Quindi è per questo che manifestiamo, affinché loro la smettano di fare questa pratica veramente incivile, vergognosa, che crea un dolore nelle famiglie, una separazione così assurda e dolorosa che veramente non giova a nessuno. Senti, Erniele, mi hai accennato che tu sei molto attivo anche sulla rete per questa battaglia contro gli ostracismi. Ne vogliamo parlare? Sì, su Facebook abbiamo creato questo gruppo e anche la pagina, una pagina ufficiale sia su Facebook che su Twitter, che si chiama Uscire dai testimonio di Geova, ferite profonde del loro ostracismo. Questo è il titolo. Su Google basta digitare e usciamo ai primi posti. Perché? Perché è importante far girare questa informazione. Cioè, molti non sanno che una volta entrati nei testimonio di Geova e poi se si decide di uscirne, per qualsiasi motivo, si subisce questo. Quindi, molti non lo sanno perché la maggior parte delle persone li conosce solo sul punto di vista mediatico, sul loro porta a porta, sulla loro consegna in giro dei loro volantini, libri, riviste. Ma non conoscono questo aspetto che è gravissimo. E noi in prima persona, con la nostra faccia, con la nostra vita purtroppo rovinata, familiare, è questo che vogliamo far capire. Non siamo contro il testimonio di Geova come persone, perché noi rispettiamo, anzi, ognuno fa la propria scelta, però siamo contro questa ideologia che crea dolore. Non può esserci un modo di fare del genere, non puoi far capire a un familiare di allontanare un figlio, un fratello, di non frequentarlo più, è impossibile. Grazie Daniele, e anche a te diamo appuntamento su Libri.tv per queste e le altre interviste. Grazie a voi. Grazie ancora. Incontriamo anche, diciamo, una testimonianza esterna, che è il dottor Sandro Leoni, che si interessa nella materia, appunto, delle sette religiosi, e ci dirà bene poi con che forme e in che organizzazione, che ci dà anche, appunto, una testimonianza che è, in qualche modo, più obiettiva dall'esterno. Sì, io sono venuto, diciamo, a testimoniare la nostra solidarietà a questo movimento, perché siamo fautori della libertà religiosa, come insegna la nostra Chiesa, e i testimoni di Geova, sembra che siano veramente rattristati da questo atteggiamento che ricevono dai capi per quando loro lasciano, no? Quindi questa sorta di ostracismo. Io appartengo a un movimento nazionale che si chiama GRIS, che vuol dire Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa, con sede a Bologna. Faccio parte della sezione romana, sono il presidente del GRIS di Roma. E quindi studiamo un po' tutte le sette, tutti i movimenti, e questo dei testimoni di Geova in maniera particolare, perché è il più diffuso a livello italiano e crea i più grossi problemi per la fede cattolica, in quanto si pongono come alternativa basata, dicono loro, sulla Bibbia. Ecco, noi facciamo questo lavoro di ricerca e di informazione, come dice la sigla GRIS, Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa, e informiamo le persone affinché non comperino a scatola chiusa e non ricevano le coscienti delusioni del poi. Senta, una cosa che volevo chiedere, lei come studioso ovviamente mi potrà dare una risposta. Questo aspetto appunto che qui in questo momento si sta portando alla luce con questa protesta, stigmatizzandolo, è una deriva recente in seguito a una integralizzazione di questo culto da parte dei responsabili, adesso non so quali sono le varie gerarchie, ci saranno anche lì, oppure è una caratteristica proprio stabile da sempre di questa confezione che credo che peraltro faccia parte dell'ampio, della panoplia delle confessioni cristiane o di mitrofe insomma al cristianesimo. Io ho guardato questo volantino che stanno distribuendo in questa occasione e che dimostra chiaramente con le citazioni che si possono anche ricavare da internet precise che è un movimento che ha questa caratteristica da sempre, è una forma di difesa per chi esce rendendosi conto insomma che non era una cosa seria e non è tutt'oro quel che riluce, quindi in genere ogni setta, anche se non vogliamo chiamarla setta e chiamiamolo movimento religioso alternativo, questo dei testimoni, ad opera come forma di difesa quello della fidati, non controllare, non uscire, non parlare con gli ex eccetera e così quando uno esce poi sia perché si è reso conto che magari la cosa non funziona o è un imbroglio o perché non gli va più con la sua libertà vuole andare altrove, ecco che viene ammarginato, si mettono dei paletti attorno altrimenti potrebbe parlare con quelli che sono dentro e farli rinsavire, quindi è una caratteristica un po' di tutti questi gruppi. Quindi ovviamente lei chiuserebbe in modo favorevole e entusiasta il fatto che non si sia poi conclusa l'accordo con lo Stato italiano, il riconoscimento in pratica, non la convenzione. Naturalmente, naturalmente, cioè bisognerebbe che lo Stato su queste cose, mica soltanto per i testimoni, ma per qualunque gruppo che si presenta come religioso, cioè uno non si può dire io sono religioso, no, perché potrebbe essere anche seguace ad una certa filosofia che lui chiama religione, sia veramente tale, cioè abbia delle caratteristiche riconosciute universalmente da esperti, che si tratta di una religione, qualcosa che riguarda la spiritualità, il destino eterno, cioè quelle aspirazioni più profonde che fanno sì che una persona, oltre ad essere un cittadino normale, insomma, si proietti anche verso la sua aspirazione ultima della vita, che è appunto quella religiosa. Ringraziamo il dottor Sandro Leoni. Grazie ancora. Grazie a tutti.